Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Geremias Rodriguez è uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi insieme al padre Il fratello di Belen, però, non è sempre stato così in forma Vediamo per che punto la rivelazione circa il peso di Geremias Rodriguez è stata fatta da Fabrizio Corona Geremias Rodriguez all'Isola dei Famosi.Il debutto di Geremias Rodriguez arrivò nel 2017 con la sua partecipazione, insieme alla sorella Cecilia, al GFD In quell'edizione la sorella trovò l'amore di Ignazio Mosè. Oggi Geremias è alla seconda partecipazione all'Isola dei Famosi Nella prima durò poco, giusto il tempo per avere una liaison con Soleil Sorge Oggi non dura se insieme al papà. Non tutti, però, sanno di come fosse il suo aspetto prima del debutto Il responsabile del suo cambio Lucca è un uomo che ha fatto spesso parlare di sé Nato nel 1988, è arrivato in Italia da giovanissimo per seguire i genitori che erano venuti nel nostro paese per supportare la figlia Belen prima e Cecilia poi Com'era Geremias Rodriguez prima della fama? La rivelazione circa il peso di Geremias Rodriguez venne fatta da Fabrizio Corona, ospite da Silvia Toffanen, durante una puntata di Merissimo nel 2018 L'ex cognato di Corona, infatti, non è sempre stato in forma come lo si vede ora Geremias Rodriguez.Appena arrivato in Italia, infatti, Geremias appariva totalmente diverso ma Corona non fece altro che accoglierlo, come fece, del resto, con tutta la famiglia Rodriguez In particolare, Corona ricorda che fece lavorare sin da subito Cecilia Quando l'ex paparazzo andò a prenderlo all'aeroporto, si trovò dinanzi un ragazzo sovrappeso e molto discinto Geremias sono andato a prenderlo all'aeroporto, pantaloni strappati, maglietta, ciabatte, 200kg e rasta L'ho portato a giro per Milano, gli ho tagliato i capelli Lo sfogo, poi, è stato fatto anche dallo stesso Geremias quando partecipò al grande fratello Vip, nel 2017 Il fratello di Belen raccontò che il cibo per lui era un rifugio Non faceva altro che mangiare e stare sul divano Riuscì a dimagrire e a pensare alla sua salute soltanto focalizzandosi sul problema e su se stesso Geremias Rodriguez prime.Oggi il suo fisico è ben diverso e non far altro che metterlo in mostra Del resto è un modello e una volta atterrato in Honduras non ha fatto altro che togliersi la maglietta per mostrare i suoi abdominali I fan, intanto, si chiedono se il dimagrimento eccessivo della scorsa edizione avverrà anche questa volta Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video